Truffe agli anziani, misure cautelare per 17 persone. A seguito di indagini dirette dalla Procura di Roma, i carabinieri notificano ordinanza che dispone custodia cautelare in carcere e ai domiciliari per 17 persone. Ipotizzata l'Associazione per delinquere per 13 persone capeggiate da una famiglia di Napoli, dove era la sede operativa con la centrale telefonica. Da lì partivano le chiamate agli anziani. Scoperto anche un manuale di istruzione per compiere le truffe. Dalle prime luci dell'alba, su delega della Procura della Repubblica di Roma, i carabinieri del Comando Provinciale di Roma, nella provincia di Napoli, supportati dai comandi dell'arma territorialmente competenti, hanno dato esecuzione a un'ordinanza che dispone misure cautelari, emessa dal GIP del Tribunale di Roma, nei confronti di 17 persone di cui 7 in carcere e 10 ai domiciliari. Dei 17, 13 gravemente indiziate di appartenere a un sodalizio criminale dedito a truffe e estorsioni in danno di anziani, e gli altri 4 di avere avuto un ruolo nell'esecuzione dei colpi. Nel corso delle indagini, i carabinieri hanno inoltre eseguito 10 arresti, in flagranza di reato, per truffe consumate a Roma in danno di anziani. Le indagini hanno consentito di raccogliere gravi elementi indiziari in ordine all'esistenza di un'associazione per delinquere avente sede a Napoli, e capeggiata dai membri di una specifica famiglia, dedita alla commissione di una serie indeterminata di reati, per lo più truffe e talvolta estorsioni, in danno di persone anziane, dimoranti in Roma e nel Lazio, ma anche in altre regioni italiane. 80 gli episodi consumati nelle province di Roma, Napoli, Latina e Viterbo, nell'arco temporale tra il settembre 2022 e marzo 2023. Fingendosi impiegato delle poste, assicuratore, avvocato o carabiniere, il telefonista diceva che un familiare doveva saldare il debito per ritirare un pacco o che aveva provocato un incidente stradale, che l'assicurazione era scaduta e che, per sistemare le cose, era necessario consegnare denaro o gioielli. In seguito un complice passava a prelevarli a casa delle vittime, che solo ore dopo, parlando con il figlio o il nipote in questione, scoprivano il raggiro. Le indagini hanno consentito di raccogliere elementi indiziari in ordine al ruolo di tutti gli indagati che in varie batterie composte da due persone, partivano tutti i giorni da Napoli con autoprese a noleggio. Le vittime venivano scelte casualmente tramite ricerche fatte in internet o sulle pagine bianche, contattate da telefonisti e poi raggiunte da corrieri. Nel corso delle perquisizioni, i carabinieri hanno rinvenuto anche un manuale di istruzione con una dettagliata descrizione delle cose che il telefonista doveva dire alle vittime per compiere le truffe oltre a denaro contante, centinaia di schede telefoniche, decine di telefoni cellulari e un grosso quantitativo di gioielli.